Antonio Di Marca, dunque ci siamo sabato e domenica, questo grande spettacolo del Green Valley Pop Fest. Cosa bolle in pentola? Intanto la temperatura di questi ultimi giorni è un po' preoccupante. Siamo attrezzati con gli idranti come lo scorso anno, quindi questo produrrà qualche piccolo beneficio, così si può definire, per chi arriverà nelle prime ore, perché poi dopo si sa, in queste situazioni molto spesso tanti ragazzi iniziano ad accalcarsi tante ore prima per cercare di prendere i posti più vicini possibili al palco, però noi siamo attrezzati per cercare di alleggerire un pochettino il caldo di queste ultime ore, che comunque dovrebbe essere leggermente in calo per questo weekend, e quindi speriamo che sia più credevole. Poi comunque lo spettacolo è vero che inizia nelle ultime ore del pomeriggio, ma poi dura per tutta la sera, quando in teoria, diciamo così, la temperatura dovrebbe rinfrescare. Quali sono le aspettative sulle presenze? Chiaramente la manifestazione ha un appeal e i nomi che parteciperanno hanno un seguito importante, quindi ci sono diversi autobus che vengono da diverse partite della Sicilia, tanta gente presente, saranno due giornate di grande festa. È chiaro che però chi volesse ancora acquistare il biglietto, sappiamo che sono in tanti, perché vediamo le richieste che riceviamo, è possibile farlo su ticket sms. Questo è un evento molto importante per la città di Sciacca, perché è un evento nazionale che produce un indotto importante per la città, ed è un evento musicale che, mi permetto di dire, unico e devo dire che negli ultimi anni non abbiamo ospitato eventi di questa caratura. Sì, è vero, c'è stato lo scorso anno, ma quest'anno c'è stato uno step ulteriore in avanti, oltre alle due serate, anche dal punto di vista del cast. Quindi è un appuntamento, ecco si sente, si respira l'aria dell'appuntamento immancabile. Facciamo qualche nome tra i VIP che saranno presenti sul palco. Allora, tra i VIP... Fedez mi sembra il più significativo, no? Beh sì, Fedez, ma anche Rama. Angelina Mango, che è un'artista che quest'anno è uscita da Amici e che sta riscuotendo un successo incredibile. Alfa, per il quale stiamo ricevendo richieste da ogni parte della Sicilia, perché anche lui è un artista molto passato dalle radio. Ros Villan, Shiba, che è un artista amato dal pubblico molto giovane, come Villa Banks. Anna, che è con Vetri Neri per ora e prima in classifica su Spotify. Questi sono tutti, alcuni degli artisti che parteciperanno è che sono in classifica tutti tra i primi posti, quindi rappresentano quello che il mercato discografico attuale propone e che genera maggior gradimento. Ecco, Green Valley anche come logo è una vostra creatura, no? Sì, esatto. Ecco, cosa significa per voi il fatto che state riuscendo ad affermare questo prodotto, evidentemente questo vi impegnerà anche in futuro a portarlo avanti, con una partnership che ritengo che sia straordinariamente interessante, quella con una radio nazionale. Certo, con Radio 105 è nata questa collaborazione lo scorso anno, Radio 105 è la radio ufficiale del festival. Ciò vuol dire che abbiamo iniziato lo scorso anno a seguire un percorso a braccetto che ci vede in sintonia sia sulle tematiche del festival, ma anche sulle scelte musicali, sul livello promozionale. Radio 105 ci ha ospitato in più occasioni quest'anno nella trasmissione di Diletta Leotta e Daniele Battaglia per raccontare il festival, ha fatto una programmazione di spot. Insieme a Radio 105 abbiamo fatto un'uscita su Studio Aperto per presentare all'inizio dell'estate e un altro anticipo ci sarà domani, sabato pomeriggio, su Studio Aperto interamente dedicato al Green Valley Pop Fest che sarà una vetrina promozionale anche per la città di Sciacca, molto bella. I figli dei Poo sono impegnati anche in questo. Sì, abbiamo due figli di Poo, Daniele Battaglia che è la sua seconda presenza al festival e Francesco Facchinetti che presenterà invece durante la prima serata insieme a Daniele Battaglia ma che ci ha detto che rimane a Sciacca anche per la seconda serata quindi sarà presente entrambe le sere perché vuole godersi lo spettacolo anche domenica sera. Si può comprare il biglietto online ma evidentemente ci sarà anche un botteghino, no? Sì, sì, faremo anche un botteghino per gli ultimi arrivati. Chiaramente il Green Valley Pop Fest riesce a concretizzarsi come manifestazione a Sciacca grazie al sostegno di tante attività commerciali, di sponsor e di sostenitori e grazie soprattutto al patrocinio del Comune di Sciacca che sostiene l'iniziativa per il secondo anno e l'ha voluta fortemente per inserirla all'interno delle manifestazioni del calendario estivo dell'Ars e della Regione Siciliana Assessorato Turismo Sport e Spettacolo.